Viva! Quindi io in un'unica parola, che è la più semplice, metto dentro questo grazie, voi che stasera ci avete ascoltato, metto chi ci ha accolti sempre, ci ha sostenuti, quindi ritrovatevi dentro, chi si vuole ritrovare si ritrovi dentro questo grazie che è veramente sentito. Grazie a Manfredi Tuminelli e a Carmelo Bolaiani, che sono in un'unica parola. Grazie a Tevano, a Giannaro, a Posta e a Bianca. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.